Salve a tutti, anche se per rimanere aderente al tema di oggi, che sono i serpenti e la paura che più o meno tutti ne abbiamo, a torto o a ragione, avrei dovuto salutarvi con un altro saluto latino, ave, quel saluto solenne che di solito si riservava ai personaggi importanti, ai cesari, agli imperatori. Secondo certi studiosi questo termine ave è legato a una radice semitica, av-ev, che significa nello stesso tempo vita ma anche serpente e che pensate si ritrova in termini come Yahweh, uno dei nomi di Dio che troviamo nella Bibbia, o Eva, la prima donna, o avo, antenato. Sì, il bene e il male, la vita e la morte, la divinità e la rivolta alla divinità, sembrano essere caratteristiche tipiche del serpente, della sua natura, così come lo troviamo in tutte le tradizioni. Il serpente che fa paura, ma nello stesso tempo viene usato come esorcismo, come scongiuro. Non c'è bisogno di andare molto lontano per provarlo. Anche da noi, in Abruzzo, a Cucullo, in provincia dell'Aquila, il primo giovedì del mese di maggio si celebra una festa molto interessante, la festa del patrono, San Domenico di Foligno. All'inizio della primavera, la gente di Cucullo, i serpari, si mette a battere la campagna alla ricerca di serpe, di bisce, di colubri, che conserverà fino al giorno della festa in sacchetti pieni di granaglie, per conservarli meglio. Il giorno della festa, la statua del santo, a mezzogiorno, uscirà in processione letteralmente ricoperta di serpenti che, mano a mano, che cadono e se cadono, gli vengono ributtati addosso. D'altra parte, il serpente usato come scongiuro si ritrova anche nell'antico mondo greco. I serpenti non velenosi venivano messi nella culla dei bambini per farli crescere forti e coraggiosi. Un'idea che, pensate, ritroviamo tra gli psicologi moderni, secondo i quali, in fondo, tutta la grande presenza nelle fiabe, nei racconti di serpenti e di draghi, contro cui bisogna lottare, che bisogna distruggere, ma anche mangiare, assimilare, ci spiegano una faccenda molto importante, che per non avere paura dei serpenti bisogna essere un po' ingenui, semplici, come i bambini, ma che, in fondo, per crescere, per maturare, bisogna anche avere il coraggio di affrontare il serpente, il suo maleficio, ma anche la sua saggezza. Beh, anche noi, oggi, affrontiamo e conquistiamo il nostro serpente.